allora salve a tutti adesso in questa lezione vediamo le funzioni in n variabili e le funzioni vettoriali però vediamo diciamo useremo un approccio intuitivo e grafico per capire cosa sono queste funzioni in n variabili le funzioni vettoriali allora io partirei partirei dalla funzione in una variabile quindi scrivo y uguale f di x questa funzione come la definiamo in linguaggio diciamo matematichese con lo giusto formalismo sarebbe una funzione che va da un dominio incluso in r a valori in r quindi di cosa stiamo parlando stiamo parlando graficamente di un qualcosa del genere a 6 x l'asse y quindi abbiamo una nostra funzione f di x dove ovviamente ad ogni valore x quindi la y dipende dal valore x ovviamente abbiamo poi la f di x quindi da x non è uguale a f di x e questa è la funzione in una variabile da un punto di vista prettamente grafico poi ci sono anche le funzioni ovviamente in due variabili come sono fatte queste funzioni allora le funzioni in due variabili possiamo scrivere semplicemente z uguale a f di x y questa volta quindi non abbiamo soltanto la variabile x abbiamo la variabile le variabili x e y in un formalismo matematico potremmo definire f da valori in d incluso in r un dominio della vostra funzione inclusione il dominio è come se fosse questo no io sto considerando questa funzione risettamente in questo caso questo è di e la cellule x è tutto r chiaro quindi sto considerando solo questo pezzo di funzione quindi di inclusi in r quadro ovviamente a valori in r allora andiamo a vedere graficamente che cos'è questa roba bene in questo caso avevo una situazione del genere allora abbiamo l'asse x l'asse y e l'asse z allora la nostra funzione come sarà fatta in questo caso beh sarà una funzione diciamo tridimensionale consideriamo ad esempio uno paraboloide un paraboloide diciamo una specie di montagnola di collinetta allora se io vado a prendere un punto vedete qua noi avevamo il punto p di coordinate x y o x ed f di x se vado a prendere un punto p qui su questa montagnola allora proiettando il punto p a terra questo come se fosse il piano terra chiaro quindi il punto p a terra quindi questo è il nostro punto p allora questo punto p che coordinate avrà 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 le coordinate x coordinate y e coordinate z quindi z vedete z sarà uguale a la funzione in funzione di x e di y stavolta qua avevamo y qua avevamo z qua abbiamo y uguale a f di x abbiamo soltanto una variabile qua abbiamo due variabili perché un punto p preso in questo caso non nel piano ma nello spazio avrà queste tre coordinate noi proiettiamo il punto p a terra avremo la x la y e la quota z ecco che cosa significa ovviamente possiamo avere anche la faccio vedere subito posso scrivere ecco k uguale a f di x y e z adesso abbiamo tre variabili allora come sarà fatto nel formalismo noi scriveremo la funzione che va da un dominio incluso in l3 stavolta a valori in r beh come possiamo rappresentare una funzione del genere in realtà è molto complicato rappresentare le funzioni in due tre o quattro variabili manualmente ci si può riuscire ancora ancora in quelle in due variabili mentre variabili diventa una cosa un po più difficile infatti ci sono dei calcolatori apposta per fare questa roba qua però in realtà ci sono state delle grandimenti c'è colori matematici che hanno ideato che hanno formulato queste queste ipotesi queste considerazioni in realtà loro le immaginavano perché l'immaginazione ovviamente in matematica e sente tutto allora come può essere fatta questa roba qua ve lo faccio vedere questo è fatto in questo modo supponiamo di essere x y z supponiamo di essere in una stanza in una stanza questo piano terra questo è l'angolo della nostra stanza supponiamo che in questo punto nel punto p questo punto ragazzi guardate un attimo avrà coordinate y x ma ci deve essere anche la z perché k è il risultato allora chi sarà z allora z ovviamente sarà la quota no? questo è z quindi abbiamo x y z perché no? questa va a tracciare in modo parallelo alla diagonale giusto per avere un buon punto di riferimento un attimo che la faccio un po' meglio questo è l'asse z allora abbiamo x y z queste sono le variabili indipendenti però guardate un attimo se io mi trovo in questo punto della stanza magari in questo punto della stanza avrò una certa temperatura che è questa no? un certo valore questo è k chiaro? perché k magari in questo punto è uguale a che so 36 gradi se magari poi io mi trovo in quest'altro punto magari qua fa un po' più freddo ovviamente la temperatura ragazzi io ho fatto una freccia ma non è un vettore la temperatura è uno scalare è uno scalare è un valore infatti sono funzioni queste qua diciamo scalare è chiaro anzi togliamo la freccetta che è meglio allora in questo punto k sarà 36 gradi in questo punto magari vedere quest'altro punto avrà ovviamente le sue coordinate x y e z anche questo punto ma magari qua la temperatura quindi k sarà 25 gradi ecco quindi k in funzione di dove io sto nello spazio di dove io mi muovo è chiaro? quindi questo significa ovviamente si possono avere funzioni da r4 in r da r5 in r da r6 in r però là poi c'è bisogno di calcolatori diciamo abbastanza potenti per poter disegnare questo tipo di funzioni infine abbiamo le cosiddette funzioni vettoriali cosa sono le funzioni funzioni vettoriali 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 allora le funzioni vettoriali noi le possiamo scrivere in questo modo cioè io posso avere semplicemente una f di x y oh dio x y z ok uguale la posso scrivere in questo modo come f1 di x y z lungo il versore i cioè lungo la serie dei x f2 di x y z lungo il versore j mettiamoci il cappelletto per indicare il versore i quindi lungo la serie dei y e f3 ad esempio sempre x y z lungo l'asse z quindi in questo caso il nostro formalismo sarebbe la funzione da un dominio d incluso in rm a valori in rn con m maggiore di 2 n maggiore di 2 allora o n è anche uguale a 1 poi vediamo nel dettaglio allora di cosa si tratta? allora uno vede qualcosa del genere vedete scritto qualcosa del genere e dice ok cosa mai sarà sarà una cosa fatta in questo modo allora siamo sempre nello spazio non nel piano ma nello spazio quindi allora abbiamo z x y benissimo noi pensiamo adesso ad un vortice d'acqua un vortice d'acqua fatto in questo modo o un tornado quello che volete voi allora osservate un attimo in qualsiasi punto allora oppure pensiamo anche ad un liquido ad un vortice di liquido come quando noi apriamo il tappo del lavandino si crea il suo vortice qua ovviamente se io prendo un punto una particella questa particella si muoverà con una certa velocità la velocità è spessa da vettori quindi ecco che avrò questo vettore di questa lunghezza perché qua magari siamo a una grande velocità qua siamo proprio in presenza proprio del punto dove io ho tolto il tappo quindi magari sarà più veloce qua invece il vettore poi avrò altri vettori avrò questo vettore vettori che diventano poi sempre più piccoli qua avrò quest'altro vettore un po' più piccolo qua avrò ovviamente quest'altro vettore bene allora la funzione vettoriale le funzioni vettoriale sono delle funzioni espresse da vettori semplicemente da vettori dove ogni vettore se io prendo quindi un vettore allora vi riporto qua un'altra grafica allora ecco qua abbiamo sempre x y e z se io prendo questo vettore lo vettore è nello nello spazio non nel piano ma nello spazio quindi il vettore v ok questo vettore se io lo proietto ovviamente a terra magari sarà qualcosa del genere ok beh questo vettore che coordinate avrà avrà coordinate x coordinate y e poi vedete le coordinate z allora ecco queste sono le coordinate che abbiamo messo noi coordinate x y e z sono delle coordinate molte volte espresse o quasi sempre espresse da funzioni è chiaro ragazzi cioè questi si chiamano queste qua sono le componenti si chiamano componenti sono le componenti del vettore quindi posso avere una funzione dove in funzione di parole di x y z avrò in uscita l'x cioè questo punto qua è chiaro oppure avrò un'altra funzione dove in funzione di x y z avrò in uscita questa y quindi avrò questa componente ecco perché lungo l'asse i perché questo è il versore i questo è il versore j i versori ricordo che sono dei dei vettori di lunghezza unitare che mi danno l'orientamento ok e questo è il versore z va bene quindi queste qua sono le componenti del vettore quindi le funzioni vettoriali è come se fossero tanti vettori che si muovono in tante direzioni da tante parti nello spazio e ovviamente qualsiasi cosa in matematica è rappresentata da funzioni è chiaro? quindi questo è quanto? questo a livello come approccio intuitivo approccio grafico semplificato perché ripeto come dico sempre la matematica è la bestia nera è tra virgolette il nemico e io dico sempre una cosa il nemico prima lo guardiamo in faccia e poi lo studiamo con semplicità ok questo è quanto come primo approccio e alla prossima